Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso italiano che si è verificato nel nord Italia nel 2016, come al solito. Andiamo con ordine. La notte del 31 maggio 2016 a Milano in Piazza Napoli sono presenti un ragazzo e una ragazza che discutono. Sembrano una coppia di fidanzati, lei pare davvero fuori di sé dalla rabbia, lo spinge, gli dà anche dei calci. Ebbene, in quella stessa notte la ragazza si addentra nei giardini di Piazza Napoli per poi impiccarsi ad un albero utilizzando la sua sciarpa. Quella ragazza che ha scelto di porre fine alla sua vita in un modo tanto tremendo si chiama Carlotta Benusiglio, ha 37 anni e fa la stilista. Abita in un loft proprio nei dintorni di Piazza Napoli. Il loft funge anche da atelier e vi riceve amiche e clienti. Lei, Carlotta, ospita ogni tanto il suo fidanzato Marco Venturi, un quarantenne. I due si erano conosciuti nel giugno del 2014. Per Marco il rapporto andava ufficializzato fin da subito, diceva chiunque che era fidanzato, mentre Carlotta era più cauta. Infatti aveva reso nota la relazione soltanto a settembre. A questo punto lo aveva presentato anche alla sua famiglia, ossia a sua madre e a sua sorella. Erano passati pochi mesi nella passione e nella spensieratezza. Poi il 16 gennaio 2015 l'incantesimo si era spezzato. Tra i due era scoppiata una lite che Carlotta denuncerà mesi dopo, il 28 marzo per la precisione. La donna era finita in ospedale e, quando era stata dimessa, aveva risposto le continue e fastidiose chiamate di Marco con questa email, che ora vado immediatamente a reggervi. Sono riuscita a recuperare questa email grazie a quarto grado, perché l'ha mostrata e l'ha letta in trasmissione. Quindi, Carlotta scrive Ok Marco, ho deciso di scriverti, ho deciso di ribadire quello che già a parole ho detto e ripetuto. Tu non vuoi sentire, non vuoi capire, non vuoi ascoltare, non vuoi vedere che mi hai ferita, umiliata e addirittura nel momento del bisogno anche denigrata. Ora te le elenco per bene le cose, così te le puoi rileggere all'infinito senza il dubbio della rimozione. Abbiamo litigato? Sì. E questo si fa in due, certo. Peccato che la motivazione scatenante non avesse il minimo peso reale che giustifichi anche solo la metà della rabbia scaturita. Sono finita all'ospedale con un timpano lacerato, ricoperta di contusioni, lividi e feriti ovunque, sulle braccia, sui polsi, sulle gambe, fin dentro la bocca. La mandibola bloccata, una tempia grossa come un fongo, una gamba su cui non riesco ad appoggiarmi più e la schiena spezzata. Senza contare le contusioni in testa, perché mi hai preso per i capelli. Tu mi puoi dire tutto quello che vuoi a riguardo, ma nulla che io possa aver detto o fatto può giustificare la valanga di botte che mi hai dato. E me ne hai date, mettitelo in testa. Se non lo riconosci ancora, e questo è un problema grave Marco, questa la prima fase. Perché pur non volendoti incontrare, nel tuo insistere mi sono anche dovuta assorbire la violenza del tuo addossarmi tutta la colpa. Che roba meschina. E io mi ci sono anche soffermata a pensare. Così col passare dei giorni e del mio malsano volerti vedere per capire, che cosa scopro? Che tu non solo mi rimezzi, ma non ricordi cosa hai fatto e mi ammonisci dicendomi Beh, se mi fai entrare in casa, allora non ti ho malmenata così tanto. Oppure, dopo che ti mostro alcune immagini, ah ma ti ho fatto così male, non pensavo. Oppure ancora, va bene, mi dispiace, che posso farci? Cosa puoi farci? Sicuramente non farmi la posta sotto casa. Infatti Marco si piazzava lì e stava in agguato. Quando ti dico che non riesco a passare sopra una cosa del genere? Sicuramente non attaccarti al citofono e al mio telefono per ore dopo che ti ho invitato ad andartene via e a lasciarmi dormire. Sicuramente non fermarti per 24 ore fuori da casa mia aspettando che metta fuori il naso per seguirmi. Potevi fare un sacco di cose e non ne hai fatta una sensata. Adesso vieni da me a dirmi che mi comporto da adolescente perché non voglio vederti. Che il mio non è un comportamento sensato e maturo. Dici di amarmi e non sei in grado nemmeno di rispettare una mia richiesta. Ti ho dato tutto il tempo perché mi dicessi quello che volevi. Mi dispiace, adesso sono spaventata. Marco a questa email di Carlotta aveva risposto così. Ciao Carlotta, ho riletto più volte questa tua email, ma non ne capisco il senso. Ovvio che la colpa è sempre mia e tu la gestisci al meglio. Non è dunque vero che lo scemo, sono io lo scemo, può fermarsi a pensare mentre tu combini qualsiasi cosa quando parti per la tua tangente. Ascoltami, non sono arrabbiato, anzi, se me lo permetti magari dopo le sei potrei passare da te a prendere il mixer che mi avevi chiesto per fare un piacere a non so chi. Marco, sai che mi manchi. Quindi in questa relazione Carlotta accusava mentre Marco minimizzava. Anche a seguito di questa situazione spiacevole e allarmante, i due non si erano lasciati. La relazione era continuata tra litigi e riappacificazioni. Finché il 15 dicembre del 2015 l'ennesima lite aveva portato Carlotta di nuovo in ospedale e una seconda denuncia, l'11 dicembre, aveva provocato in Marco una reazione a dir poco assurda. L'uomo scrive a Carlotta dei messaggi che ora vi leggo immediatamente. Mi hanno liberato solo ora? Grazie. Splendita serata in gabbia. So che mi hai denunciato. Vuoi l'inferno? Ci siamo. Sia quello che sia. Mi hai perso per sempre. Hai perso il nostro rapporto. In tribunale porterò anche il tuo analista. Non sono incazzato, sono furibondo, ma consapevole. Fottiti, idiota, ne parliamo faccia a faccia tra poco. Sabato 24 gennaio Marco aveva mandato altri messaggi a Carlotta. Ossia, vaffanculo, hai il telefono scarico. Io come E.T. vado a casa, guardando le stelle, aspettando che tu esca dal portone. Il giorno dopo, alle 14.16, Carlotta aveva risposto. Cosa cazzo vuoi da me? Non sei abbastanza contento di tutto quanto? Devi ancora insistere? L'ultimo episodio denunciato è del 13 aprile 2016, un mese e mezzo prima dell'alba in cui Carlotta Menusiglio viene trovata senza vita e impiccata a un albero di Piazza Napoli. Quel 13 aprile lei è in strada con Marco Venturi, il quarantenne con cui ha una relazione tormentata, spesso violenta. I due, come tante altre volte, discutono. Lei gli chiede di lasciarla andare e di non seguirla. Lui invece aspetta che la donna sia in casa e si introduce nella sua abitazione attraverso una finestra. Ma cos'è accaduto quella sera? La sera della disgrazia. Tutto inizia alle 18.17 del 30 maggio 2016, quando Carlotta scrive a Marco tramite messaggio «Ok, dieci minuti e sono pronta. Vieni pure». I due escono con l'auto di Marco, vanno in via Paolo Sarpi e litigano, perché Marco le deve dei soldi, ma non vuole pagare un abito che devono ritirare. Per cena si dividono, ma si incontrano nuovamente più tardi, alle 22.30. Presso un bar in Zoranavigli, il Cape Town, dove si fermano fino a l'una di notte, non smettendo mai di discutere. Eccoci alla notte tra il 30 e il 31 maggio. A questo punto emergono delle ombre sulle ultime ore di vita di Carlotta. Da l'una fino alle 2.41 non si sa cosa abbia fatto la coppia. Marco sostiene che sono sempre stati in giro insieme, ma il cellulare di Carlotta aggancia la cella che copre casa sua all'1.47. Sta facendo una ricerca su internet per un concerto. A questo punto resta solo una domanda. Marco, dov'è? Di certo alle 2.41 l'auto di Marco si trova parcheggiata a 100 metri dal portone di casa di Carlotta. Alle 2.48 la macchina si sposta. La coppia si dirige ad un chioschetto situato in piazza Piemonte, dove i due vengono visti litigare di nuovo. Marco, a quanto pare, parla con una passeggiatrice e mi chiedo perché lo faccia, visto che è insieme alla sua fidanzata. Il rapporto chiaramente sta andando in malora, ma perché avvicinare una passeggiatrice mentre è presente anche Carlotta? Il perché non è noto, in quanto dieci minuti più tardi i due si allontanano dal chioschetto dopo aver preso un panino e una birra e da allora si spostano sempre a piedi. Alle 3.39 Marco e Carlotta sono nei pressi della casa della donna. Litigano, probabilmente perché Marco non vuole darle le chiavi di casa, forse gliele ha sottratte in qualche modo. Spesso, racconta la sorella di Carlotta, avvenivano discussioni come queste. Marco le sottraeva le chiavi di casa perché Carlotta ovviamente si rifugiava lì. Quando chiudeva la porta, Marco non poteva più raggiungerla. È vero, a volte Marco si infilava dalla finestra del bagno per entrare in casa, ma in questo periodo non lo fa più. Piuttosto rimane sotto casa di Carlotta delle ore intere attendendo che esca per seguirla. Lei a questo punto gli tira addirittura un calcio, poi lo spintona. Pochi secondi dopo, una telecamera riprende l'immagine di una donna che si avvia di spalle verso il parco di Piazza Napoli, ossia il luogo della tragedia. Per la famiglia, quella donna è Carlotta. Tre minuti dopo, alle 3.42, un'altra telecamera riprende in fondo al parco un uomo con la coppola bianca. È vestito come Marco. Può essere successo qualcosa di drammatico in questi tre minuti. Carlotta decide di porre fine alla sua vita impiccandosi ad un ramo di un albero. Oppure qualcun altro le ha fatto del male e poi l'ha appesa lì? Alle 3.50 Marco viene ripreso mentre preleva il bancomat a 200 metri dalla piazza. Alle 3.52 un ragazzo con un piomino blu costeggia il parcheggio di Piazza Napoli, guardando proprio nella direzione in cui Carlotta viene trovata impiccata. Eppure non si avvicina. Alle 3.53 una sagoma a pasto svelto si allontana dal parco. Di chi si tratta? Ma soprattutto, è davvero una sagoma? Ci torneremo su questo punto. Un uomo che aspetta un taxi in piazza, 17 minuti dopo, alle 4.10, testimonierà di non aver notato il corpo di Carlotta. Ma cosa sta facendo Marco nel frattempo? Dice di aver preso un taxi per raggiungere la sua macchina, parcheggiata in Piazza Piemonte. Qui, in effetti, l'auto di Marco viene immortalata alle 4. Alle 4.30 l'uomo è a Porta Genova. Un farmacista testimonia di avergli negato il Ventolin, un medicinale contro le crisi respiratorie, perché non ha con sé la ricetta. Ma pochi minuti dopo Marco si è già ripreso e scherza con una pattuglia in Viale Papiniano, a Milano. Riappare alle 5.17 quando una telecamera lo riprende mentre era in casa. Ci sono dunque 47 minuti di vuoto. Che cosa ha fatto Marco? Carlotta quindi viene ritrovata impiccata a un albero di Piazza Napoli. La sua sciarpa funge da cappio. Sono le 5.45. I pantaloncini che indossa presentano la cerniera aperta. A questo punto Marco scrive questa email a sua sorella, a distanza di circa tre mesi dalla tragedia. Se pensi che sia io da averle stigata al suicidio non hai capito nulla. Lei non si è suicidata. Se vorrei mai parlarne io ci sono e poi non lasciamo che tutto il suo talento finisca in una pagina di cronaca. Ti dico la verità. Lei ti ammirava molto ma eravate lontane. Tu colorata e lei nera. Lei ha sempre riflettuto su questa cosa. Aneddoti di voi due in camera da adolescenti con i genitori a tavola. Queste notizie se vorrai mai potrei cercarle dal suo psicologo. Se vorrà si potrà parlarne. Carlotta mi raccontava di come dividevate la stanza da piccole. Piccole cose insomma. Questa email ferisce la sorella di Carlotta e i suoi familiari specialmente per avere descritto Carlotta come un'anima nera che ha sempre riflettuto su questa cosa. Quindi sul suicidio. Il tempo passa e nel frattempo vengono anche avviate le indagini per il decesso di Carlotta che, vi ricordo, si è impiccata ad un albero a circa 100 metri di distanza da casa sua. Le indagini devono chiarire se Carlotta possa essere riuscita da sola a fare un simile nodo alla sua sciarpa, stretto fino a strozzarla, oppure se qualcuno fosse con lei. Ho persino letto di fonti in cui si riporta che non c'era neanche un vero e proprio nodo dietro la sciarpa ma trovo sia inverosimile a una situazione del genere. Presto capirete anche il perché. Al vaglio degli inquirenti continuano ad essere anche le telecamere che hanno ripreso Carlotta fino alle 3.39 della sua ultima notte tra il 30 e il 31 maggio 2016 mentre litigava con Marco, il fidanzato, arrivando persino a tirargli un calcio. Era davvero presente soltanto Carlotta al momento della sua morte? Questa sicuramente è una morte apparsa sospetta fin dal giorno del ritrovamento del corpo. La procura di Milano cerca di fare luce su questo caso mentre la famiglia di Carlotta non crede mai, nemmeno per un istante, alla versione del suicidio. Giorgia Benusiglio, sua sorella, dice nel merito Era una ragazza riservata, non l'avrebbe mai fatto non credo affatto che mia sorella si sia suicidata non l'avrebbe fatto e soprattutto, vista la sua riservatezza mai a due passi da casa usando un albero in piazza per assurdo avrebbe potuto farlo usando il suo palco in casa sua io e la mia famiglia vogliamo la verità del fidanzato neanche voglio parlare noi eravamo contrari alla relazione per precisi motivi. La sorella, Giorgia Benusiglio, è una giovane scrittrice impegnata in una campagna contro le sostanze rivolta soprattutto ai giovani infatti da ragazzina aveva rischiato di morire dopo aver preso una mezza pastiglia e si era salvata soltanto grazie a un trapianto di fegato effettuato al Niguarda di Milano Da allora gira nelle scuole e ha incontrato migliaia di studenti per raccontare la sua storia e fare prevenzione contro l'utilizzo delle sostanze Giorgia continua dicendo Mia sorella stava bene, era serena l'ultima che la sentite è stata mia madre il lunedì 11 di sera si sarebbero dovute incontrare per mangiare a pranzo proprio martedì e una madre sente se la figlia sta bene o no aveva mille progetti era un'artista era appena tornata da Venezia dove era stata per una festa di addio al nubilato aveva disegnato e realizzato l'abito da sposa per un'amica inoltre a giorni doveva venire a trovarla era un'amica dall'argentina che non vedeva da sei anni insomma il suo non è un comportamento di chi vuole farla finita sul fidanzato Giorgia non vuole e a questo punto non può parlare ma si limita a dire ci sono le indagini in corso la casa di mia sorella è sotto sequestro lei aveva denunciato il fidanzato diverse volte per le violenze subite ma non chiedetemi di più ringrazio il magistrato e gli investigatori della polizia per quello che stanno facendo incredoli di fronte all'ipotesi del suicidio sono anche gli ex colleghi del Cape Town un locale di via Vigevano sempre a Milano dove la giovane aveva lavorato a lungo prima di intraprendere la carriera di stilista a tempo pieno e inoltre è il locale dove si sarebbe trattenuta per poche ore prima della sua morte uno dei suoi ex colleghi racconta l'abbiamo vista di notte prima che morisse ci sembrava così strano che si sia suicidata era una ragazza solare e determinata stava finalmente raggiungendo il suo sogno diventare stilista il capo della squadra mobile della questura melanese Lorenzo Bucossi spiega al momento nessun elemento ci fa allontanare dall'ipotesi del suicidio ma stiamo indagando come se non lo fosse anche in virtù delle dichiarazioni della famiglia l'autopsia sul corpo di Carlotta non evidenzia segni di ferite o percoste che avrebbero indotto a pensare a una lite degenerata in tragedia gli investigatori continuano a dire non ci sono elementi per pensare a un'ipotesi diversa dal suicidio l'ipotesi che emerge dalle indagini è di uno strangolamento o autoindotto anche se la procura attende ancora gli esami tossicologici sul corpo della donna per avere un quadro completo sulle cause del decesso intanto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti l'iscrizione è un fatto tecnico per effettuare le indagini coordinate dal PM Alberto Nobili e Antonio Cristillo e condotte dalla squadra mobile con il commissariato di Porta Genova sebbene dai primi esiti dell'autopsia risulti uno strangolamento per impeccagione senza alcun segno di lesioni o collottazione e quindi dell'intervento dei terzi le indagini stanno proseguendo a tutto campo tant'è che sono in corso esami tossicologici e anche del DNA l'ultima ad aver visto in vita Carlotta Benusiglio lunedì sera a pochi metri dal suo palazzo in piazza Napoli è Cristina di 50 anni ha due cani e fa anche la dog sitter per diversi residenti del quartiere Cristina ricorda che la sera verso le 19 ha visto arrivare la macchina di Marco il fidanzato di Carlotta lei è uscita da casa sua è salita nella sua macchina e sono andati via le è sembrata tranquilla e rilassata anche se si sapeva che i due litigavano molto spesso Cristina purtroppo ha rivisto Carlotta da cadavere appesa a quell'albero la mattina successiva alla domanda lei crede nel suicidio? Cristina ribatte qui non ci crede nessuno non ci spieghiamo come ci si possa legare senza appoggio a un ramo che è a due metri da terra l'ultima domanda che le viene posta a mio avviso è davvero interessante ai fini del caso in quanto il giornalista chiede a marzo in questo parco si è suicidata una clochard polacca con un lenzuolo annodato alle ringhiere degli ex bagni pubblici Cristina ribatte prontamente me lo ricordo bene in quel caso però quella povera donna aveva usato un bidone della spazzatura per arrivare alle ringhiere il bidone è stato trovato riverso vicino al corpo ed è rimasto lì per giorni nel caso di Carlotta invece non c'era niente ai piedi dell'albero mi sembra strano che si sia arrampicata abbiano dato la sciarpa e si sia lasciata andare così come ha potuto fare tutto da sola? uno dei sanitari arrivati in piazza Napoli martedì mattina poco dopo le 6 a tentare coi colleghi di salvare la vita Carlotta già deceduta da almeno due ore dice ho visto la ragazza impiccata era in piedi appoggiata con le spalle all'albero ma il peso del suo corpo era sostenuto dai suoi piedi e questa cosa a noi è sembrata strana siamo rimasti lì a farci un po' di domande alla domanda cosa le è sembrato strano di quella scena drammatica il soccorritore spiega la cosa particolare è stata vedere Carlotta regata al primo ramo dell'albero a circa due metri da terra coi piedi che poggiavano per terra ci siamo chiesti come avesse fatto dal punto di vista medico se ti butti giù ti spezzi il collo e i vasi sanguigni e in due o tre secondi muori perché non hai più un segnale afferente alla testa oppure muori soffocato io credo e ho sentito le notizie sull'autopsia che lei sia morta soffocata il giornalista ribatte l'autopsia escludendo ferite o lesioni da percosse rivelerebbe uno strangolamento suicidario autoindotto il soccorritore a questo punto continua dicendo il corpo a un certo punto anche in funzione dei riflessi condizionati in una situazione di soffocamento tira calci ha degli spasmi le gambe dovevano essere tese in avanti coi piedi in avanti invece noi l'abbiamo trovata che si reggeva sulle sue gambe non so come sia possibile venerdì 10 giugno si tengono i funerali di Carlotta presso la sala multifunzione del cimitero di Lambrate in piazza caduti e dispersi in Russia vengono eseguiti degli esami tossicologici dopo l'autopsia ed emerge che Carlotta aveva nel sangue 2,2 grammi di alcol per litro una quantità 4 volte superiore rispetto al limite consentito per mettersi alla guida ma non viene rintracciata la presenza di sostanze intanto le indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dal PM di Milano Antonio Cristillo vanno avanti e potrebbero concludersi nel giro di alcune settimane il dato certo e fermo nell'ambito dell'inchiesta aperta per istigazione al suicidio a carico di ignoti è quello emerso dall'autopsia dei giorni precedenti gli esami hanno confermato che la morte è avvenuta per uno strangolamento suicidario e che non vi erano tracce che portano a ritenere che sia stata provocata da un'altra mano anche perché sul corpo non sono state trovate lesioni o altri segni di violenza a ogni modo investigatori e inquirenti dopo aver raccolto una serie di elementi tra cui testimonianze, immagini di telecamere e campioni genetici sono ancora al lavoro per inquadrare chiaramente la vicenda vagliando anche la versione resa dal fidanzato della donna l'alibi del fidanzato sentito dalla polizia come persona informata sui fatti pare regga alle verifiche degli inquirenti riguardo a quella notte Marco, unico testimone dice a tutti gli amici che Carlotta stava sempre a giocare con quella cazzo di sciarpa negli ultimi mesi aveva avuto con lui un rapporto complicato facendosi medicare più volte al pronto soccorso dopo alcuni litigi si erano lasciati e riavvicinati più volte lo aveva anche denunciato Marco viene sottoposto al prelievo del DNA nonostante ciò continua a non essere indagato ad ottobre 2016 si va verso la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Carlotta Venusiglio gli inquirenti stanno tirando le fila del caso pochi giorni prima hanno di nuovo sentito come testimone il fidanzato della giovane donna e nei giorni seguenti dovrebbero inoltrare al GIP l'istanza con cui chiedono di archiviare la vicenda richiesta a cui chiaramente si oppongono i genitori della stilista intanto Marco ha puntato il dito contro la famiglia di Carlotta a suo dire era l'unica fonte di problemi della fidanzata ma è davvero così? quel che è certo è che Carlotta cinque ore prima di morire era al telefono con sua mamma Giovanna per organizzare un pranzo a casa il giorno seguente che avrebbe preparato con le sue mani inoltre prima della telefonata è sempre stata Carlotta a mandare un video scherzoso a sua madre possibile che si tratti degli ultimi gesti di una donna depressa? tra tutti gli amici e i conoscenti di Carlotta solo Marco racconta dei suoi dissidi con la famiglia arrivando addirittura a definirli odio ma la famiglia di Carlotta era solita fare parecchi video amatoriali che coprono buona parte della vita della ragazza è sempre sorridente da quei filmati pare faccia parte di una famiglia unita ci sono anche molti video in cui la famiglia riprende le vacanze trascorse insieme con Carlotta sempre serena e allegra si riesce inoltre a percepire quanto lei ami fare foto anche quando era più piccola ci metteva tantissimo impegno a scattare voleva la luce perfetta, l'inquadratura perfetta Carlotta ama stare dietro la fotocamera o la videocamera più che farsi riprendere infatti c'è un video in cui lei e la sua famiglia sono in Kenya e Carlotta si copre la faccia mentre sua madre commenta ridendo Carlotta si copre perché non vuole mai mai essere ripresa copriamo ben presto che la famiglia di Carlotta è molto unita insieme hanno girato il mondo e si vogliono davvero un bene immenso a novembre il PM raccoglie le numerose denunce fatte da Carlotta prima di morire sono tanti gli episodi alcuni di rabbiosa violenza che costano a Marco Venturi l'accusa di stalking e lesioni l'atto di conclusione dell'indagine coordinata dal PM Antonio Cristillo partita a fronte delle numerose denunce di Carlotta è stato notificato all'indagato l'uomo dovrà difendersi dall'accusa di essere stato protagonista di numerose aggressioni sia fisiche che verbali dal settembre 2014 al 13 aprile 2016 queste aggressioni avevano indotto Carlotta ad alterare le proprie abitudini di vita e a provare fondato timore per la propria incolumità il 16 settembre 2014 per esempio Marco Venturi inseguita una discussione per quote con uno schiaffo Carlotta parte offesa lavorando a questo caso come visto all'inizio si era pensato ad un suicidio ma le indagini portano ad investigare sull'ex compagno della donna la morte di Carlotta continua ad essere un mistero per questo la polizia scientifica e la squadra mobile di Milano hanno deciso di fare una simulazione coinvolgendo i vigili del fuoco e la protezione civile proprio nel luogo in cui Carlotta è stata ritrovata chiusa la piazza i recintati giardinetti hanno usato un manichino con lo stesso peso della donna per ricostruire i suoi ultimi momenti di vita una simulazione che viene elaborata e inviata alla procura arriviamo alla fine del dicembre 2017 quando qualcosa cambia il reato ipotizzato a carico di Marco Venturi il compagno di Carlotta non è più istigazione al suicidio ma omicidio volontario aggravato a un anno e mezzo da quel giorno le indagini ripartono da una nuova autopsia il pubblico ministero Gianfranco Gallo ha infatti disposto la riesumazione del cadavere e ha fissato al 3 gennaio 2018 un'udienza per formalizzare la nomina del consulente che se ne occuperà infine come già detto ha cambiato il capo di imputazione per Marco Venturi da istigazione al suicidio a omicidio volontario aggravato verrà quindi effettuata una nuova autopsia con la formula dell'incidente probatorio sul cadavere di Carlotta Benusiglio lo ha deciso il GIP del capoluogo lombardo Alfonso Ferraro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di quella morte un'indagine passata anche per una richiesta di archiviazione e poi per una riapertura da parte del PM Gianfranco Gallo il giudice stabilisce che lunedì 5 febbraio 2018 verrà conferito l'incarico al perito per l'autopsia esami per i quali sarà necessaria la riesumazione della salma operazione che dovrebbe avere luogo a fine febbraio agli atti delle indagini condotte dalla squadra mobile c'è anche una consulenza sulle immagini di due telecamere prodotta dai legali della famiglia Benusiglio gli avvocati Gianluigi Tizzoni e Pierpaolo Pieragostini ma ora facciamo un passo indietro perché Marco scrive la trasmissione quarto grado il 18 gennaio 2018 e leggiamo immediatamente che cosa ha detto Marco a quarto grado ricevo le vostre domande e con questo scritto vi riporto alcune risposte tenendo per me e per il mio ricordo quelle più personali ed intime parte 1 rapporto con la famiglia di Carlotta ho provato a contattare la sorella di Carlotta senza avere alcuna risposta in seguito non ho più provato a contattare i familiari perché mi ritengono responsabile di un gesto che non ho mai commesso al momento ogni comunicazione è impossibile parte 2 cos'è successo quella notte? dato che c'è un'indagine in corso il mio legale mi impedisce di rispondere a molte delle vostre domande risponderò prima e del caso al pubblico ministero quando avrò precisa e documentata conoscenza dell'accusa quello che posso e voglio dire e lo ripeterò all'infinito è che con la morte di Carlotta io non centro nulla parte 3 rapporto con il procedimento non mi sono mai opposto ad alcun atto di indagine come ho letto su alcuni giornali non mi sono opposto all'accertamento tecnico la nuova autopsia voluta dal pubblico ministero ho solo chiesto come mio diritto che il tutto avvenga con una perizia onde consentire una partecipazione informata di tutte le parti ho accolto con favore che mia madre un po' anziana e in condizioni di difficoltà fisica a causa di un recente trauma si sia recata a rispondere alle domande del PM pur avendo facoltà di non farlo così dice il mio legale parte 4 altro procedimento sono a conoscenza dell'esistenza di un altro procedimento a riguardo per due volte la procura aveva chiesto l'archiviazione poi il fascicolo ha preso un'altra strada sono stato interrogato a febbraio 2016 ho risposto, ho dato la mia versione e da allora il fascicolo è fermo senza alcuna richiesta con il mio avvocato stiamo valutando cosa fare perché non credo sia giusto rimanere in sospeso così a lungo voglio solo chiarire una cosa che mi sta molto a cuore le immagini che ritraggono Carlotta e suo volto con gli occhi neri sono fotografie scattate qualche giorno dopo il verificarsi di una rissa in cui è rimasta coinvolta perché cercava di soccorrere un ragazzo francese aggredito in quella circostanza ha riportato la frattura delle ossa nasali ho depositato tutta la documentazione da cui si evince la mia estraneità a quell'infortunio sì a quell'infortunio ma a tutti gli altri mio caro Marco eh? Ne vogliamo parlare? Procediamo per il resto sono sicuro che avrà giustizia anche se questo purtroppo non ci restituirà Carlotta nel marzo del 2018 viene riesumato il corpo di Carlotta e trasferito all'istituto di medicina legale di Pavia per essere sottoposto ad un attacco questo esame servirà a verificare se a livello del collo in particolare su un determinato siccino ci siano segni che possono indicare se si sia trattato di suicidio o di omicidio i nuovi esami stabiliti dal giudice si dovrebbero concludere all'inizio di maggio con il deposito della relazione dei periti incaricati Giovanni Pierucci e Rosangela Invernizzi sempre dell'istituto di medicina legale dell'università di Pavia Carlotta Benusiglio è morta con grande probabilità a causa di una sfissia prodotta da impiccamento sul cadavere riesumato non c'erano lesioni riconducibili a un eventuale strangolamento parziale o totale con successiva sospensione del corpo lo scrivono i medici legali parlando anche di natura suicidaria dell'evento il compagno Marco Venturi continua ad essere indagato per omicidio volontario nel frattempo poi agli atti è giunta anche una consulenza sulle immagini di due telecamere di sorveglianza prodotta dai legali della famiglia Benusiglio gli avvocati Gianluigi Cizzoni e Pierpaolo Pieragostini che si erano sempre battuti perché il caso non venisse archiviato ora nella nuova perizia gli esperti confermano in sostanza l'ipotesi del suicidio infatti come vi ho già detto in un passaggio parlano di natura suicidaria dell'evento ma soprattutto fanno riferimento a dati compatibili con l'assenza di manovre di strangolamento a opera di terzi e successivo impiccamento nonché con l'assenza di tracce di impiccamento attuato da terze persone e compatibili invece con manovre di autoimpiccamento durante il processo la pubblica accusa avanza la richiesta di condanna a 30 anni di reclusione senza concedere alcuna attenuante nel febbraio del 2022 viene programmata la lettura della sentenza ma il giudice ritiene insufficienti gli elementi per decidere così dispone una nuova perizia informatico forense sulle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in piazza Napoli la notte della morte della vittima si tratta in particolare di 8 secondi di filmato che secondo i legali di parte civile mostrerebbero la sagoma del presunto omicida mentre si allontana dal luogo del delitto in un orario in cui il corpo esanime della stilista risulta appeso all'albero per i difensori tuttavia quella sequenza non avrebbe alcun rilievo e la sagoma non può essere attribuita con certezza a Marco Venturi tanto che la stessa polizia scientifica all'esame del video non ravvisa alcun elemento concreto ai fini dell'indagine il successivo mese di maggio la suddetta perizia conclude che tale filmato non mostra alcuna sagoma umana piuttosto la macchia che aveva indotto l'accusa a sostenere la presenza di una persona sul posto è in realtà un artefatto di compressione la sentenza di primo grado con rito abbreviato viene pronunciata nella mattinata di mercoledì 8 giugno dal GIP Raffaella Mascarino che ha riqualificato l'accusa di omicidio volontario come morte in conseguenza di altro reato l'avvocato della famiglia Benusiglio Gianluigi Tizioni parlando con i giornalisti commenta leggeremo le motivazioni il giudice evidentemente ha immaginato una condotta antecedente che può risalire al reato di stalking o essere immediatamente risalente alla sera stessa tale condotta poi ha determinato dal punto di vista del reato doloso antecedente la morte di Carlotta c'è un però le porte del carcere non si apriranno per Marco Venturi l'ex fidanzato di Carlotta Benusiglio che mercoledì 8 giugno è stato condannato in primo grado a 6 anni per morte in conseguenza di altro reato e per lesioni e stalking la pena non è esecutiva per questo Venturi resta ora a piede libero i suoi avvocati Andrea Bellotti e Veronica Rasoli hanno già precisato che faranno ricorso in appello si attende così il secondo grado di giudizio prima di decidere una possibile carcerazione la prima sentenza arriva 6 anni dopo la morte di Carlotta durante tutte le udienze ma anche durante tutte le indagini investigatori e inquirenti si sono chiesti se sia stato Marco Venturi a uccidere Carlotta oppure se la ragazza si sia suicidata nelle fasi del processo corrito abbreviato il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 30 anni per omicidio se ricordate il giudice ha riconosciuto non l'omicidio ma il coinvolgimento dell'imputato nella morte della donna così come i precedenti reati di lesioni e stalking l'accusa ha sempre sostenuto che Venturi molestava la ex con telefonate e messaggi telefonici anche in orari notturni e si recava ripetutamente sotto l'abitazione della stessa appostandosi per incontrarla e spiarne gli spostamenti anche di notte l'aggrediva sia verbalmente che fisicamente e la minacciava nel 2015 Carlotta a causa delle percosse ha subito un trauma cranico appena dopo la sentenza la famiglia di Carlotta ha parlato ai giornalisti dicendo di essere felice del verdetto Georgia infatti dice sei anni di pena non solo tanti ma quello che volevamo era ridare dignità a Carlotta e oggi è stato così per cui non posso far altro che essere felice credevo nella giustizia e non mi sono sbagliata la mamma di Carlotta e di Georgia Giovanna dice sei anni di carcere sono pochi ma non mi interessa l'importante è che abbiano stabilito che il colpevole era lui che era quello che sapevamo poi non mi interessa se trascorre lì un anno, due, tre o venti non sono così cattiva dentro tirando le somme il giudice quindi ha dato ragione alla criminologa Ursula Franco che fin da subito si era espressa con nettezza dicendo queste parole quella omicidiaria è un'ipotesi insostenibile a meno che a Marco Venturi non si vogliano riconoscere dei superpoteri a permetterci di escludere che Marco Venturi abbia stordito e poi sospeso all'albero di piazza Napoli la povera Carlotta non sono solo gli orari forniti dalle telecamere di piazza Napoli ma anche le risultanze autoptiche lo stato degli abiti e del luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della fidanzata ora, sapete che penso io? penso che è incredibilmente difficile decifrare i sentimenti di una persona che vuole togliersi la vita talvolta credetemi ho dei conoscenti a cui è accaduto da un giorno all'altro di perdere un affetto per questo motivo e quella persona non aveva assolutamente dato alcun segno di tristezza o squilibrio niente di niente la verità è che non possiamo sapere cosa passasse nella mente di Carlotta quella notte del 31 maggio e vi giuro che non voglio mancare di rispetto alla famiglia di Carlotta anzi, è l'ultima cosa che voglio fare ma credo che neanche la propria madre riesca a decifrare un intento suicida se sia abbastanza bravi a far credere che stia andando tutto bene oggi Carlotta non c'è più e in effetti studiando bene il suo caso cercando le informazioni anche se a mio avviso troppo poche sparse in parecchi articoli si riesce ad intuire che effettivamente l'unica nota stonata della sua vita era quella relazione di verità ce n'è una ed è quella del processo in primo grado il giudice ha sostenuto che in qualche modo Marco Venturi avesse portato al suicidio di Carlotta detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se questo video è stato per voi di vostro gradimento ma soprattutto fatemi sapere cosa ripensate di questo caso perché la sentenza è stata annunciata davvero pochissimo tempo fa si parla dell'8 giugno 2022 davvero è passato poco tempo quindi sono curiosa fatemi sapere se conoscevate questo caso e cosa ripensate ci becchiamo qui sotto nei commenti come al solito io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti